Oggi iniziamo con Before the Strange, Life is Strange, sì vabbè, Life is Strange before the Storm con l'ultimo capitolo Quindi il capitolo finale bonus, così lo finiamo Allo sotto, così lo finiamo con la scheretta Sono un po' stordito Io dimmio stamattina, oggi, scusate, stamattina sono le 3 Perché mi sono svegliato da poco per questa notte e dovuto lavorare E allora Mi sono un po' preso male, però ce la facciamo Nel senso che ci portiamo a casa allora questo capitolo finale Addio si chiama E ci siamo Iniziamolo dai Iniziamolo dai Iniziamo quest'ultimo capitolo, su Iniziamolo dai Iniziamo 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 Certo. Brava. Let this box of trash be a sacrifice to you, oh almighty. Chloe and I haven't played this game in forever. And I'm pretty sure it's missing pieces. Dice, butta via. Buttiamola via. What are you doing? Adding this to the pile. No freaking way. Just because I beat your ass every time we play doesn't make it trash. Ma non è vero. That's BS. The last time we played I wiped the floor with you. Poor Max. Losing your memory at such a young age. I guess we'll have to play again soon and find out. Niente, questo rimane qui. Gatti del concerto. Chloe keeps trying to get me to hop on her board. I'd rather take pictures. Chloe's such a nerd. She hangs on to all her old textbooks in school supplies. Wait. Open. Guarda. Put a via. How about these boy band trading cards? Super cringeworthy. Super cringeworthy. Yeah, and hilarious. Remember when we gave them all makeovers? That was pretty funny. When we were ten. Don't you think it's time to let the boys go? Not yet. Boy Toy Stay. For now. Niente, non vuole buttare via nulla sta qua. This is Luis Doug. Quit doing here? Hey, what's your dad's camera doing in here? He's tired of watching you drool all over yourself every time he uses it. You're padres. You're dad is the best. You're dad is the best. Just don't ever tell him that. We need to keep him on his toes. You're off to a great start. Actually, it's kinda cool. I bet Chloe's parents were freaking out when she got this letter. quando è stata messa all'Accademia di Blackwell, parlando scolastico 2008-2009 che distinta da tutti i criteri della missione e poi ha fatto un casino bello insisti a non dire niente non dire niente allora pagella spraiti apri un gioco di magia tuttavia no, va bene anche questo no, non trovo una cosa da buttare ok guarda 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 chiamato a chiamato il chiamato il chiamato non mi sembrava che si giocava con lui che? è stato bello chi è più che chloe potrebbe cambiare la casa di una pyrotecnica un'avventura. Chloe mi ha fatto un tempo, ma quella scoperta potrebbe arrivare ogni giorno. è così difficile per credere questo ruolo, questa casa, questa città tutto nel passato ora or soon to be chi è che non sia chloe? è la persona che sempre sta iniziando e prenderemo gli avventure. Non posso immaginare la vita senza lei. Talvez non ho detto che sia venuto ancora, perché non posso ancora credere che sia reale. Vabbè, possiamo stare tutto il giorno qua a sottraigliare e buttare via un po' di roba. Sottraigliati, kit magia, per terra, non c'è nient'altro, scape. Buttare via. Non c'è nessuno di anni, perché ti preoccupi? Perché ti preoccupi? Perché ti preoccupi, se ti metti il mio amico 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 dentro del bambino? Non credo che questo abbia una risposta. Sottraigliati, Chung. È meglio. Chloé ha avuto questo bambino durante anni, è la sua favorita. Ma non credo... Non c'è solo questo. Eh, non è rimasto più niente. Svalo. Di magia. Ah, qui. Guarda. Sottraigliati, Sottraigliati. Sottraigliati. Chloé ha spiegato le loro stelle. È come... ...la mia propria galleria privata. Sottraigliati. Come è, ti porta... Niente, non c'è un cazzo da buttare. Ho cercato il mio meglio per riuscire questo posto. Devo andare a cercare con Chloe ora. Cosa stai facendo? Tu fai preferito. Tu deve essere stato fatto per erro, certo? No, è bene. È pieno di scopi e si stacchia. Questo non ha mai riuscito a prenderlo in prima. È bene. No, questo no, quello no, non è rimasto più nulla, migliaia di posta, niente, parliamoci, perché... ...d'accordo che devo dire qualcosa... ...è... ...d'accordo... ...non... ...no... ...como... ...d'accordo! Max, prendi la pensione! ...d'accordo che si è venuto quando stavo a scoprire qui! ...d'accordo che questo è? ...d'accordo che è... ...se sembra che è venuto da nostra piretica. Sui potenti di deduzione sono più forti come mai. Questa città è da cinque anni fa. È un messaggio da nostri 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 nostri. Quindi eravamo 8 anni oldi? Questo è vero. Non nemmeno immaginare cosa stavamo. Siamo pronti a capire? Avast, futuro Wayfarer! Voi hai scoperto l'audiologo dei pirati più fieri in le basi di Arcadia. Capitano Bluebeer e Long Fat Silver! Vi sono cercato di... Sì, sei cercato di trascendere, oi? Sì, se è trascendere, lo vedete. Non ho trovato due piccoli pirata. Capitano! Siamo nel medio di un progetto importante. Non ho trovato. Non ho trovato. Sì, sì. Voi passare in 5. Voi le mani, te figli pirati, ragazzi. È così scoperto. Come ho detto, se fosse trascendere, se volete a il giro. Ma essere preguiti, la viaggio sarà trascendere e piena di trascendere. Buonissimo. Per trovare il trascetto di Price Isle, tu dovrai necessitare il matto dai manuscritti di Capitano Bluebeard. Solo il matto può aiutare il trascetto che ti chiedi, ma essere pregattati. Per, di nuovo, solo i quelli con piaci di piacere poter sapere cosa gli amulet mostra. Il amulet. Buonanotte, e... ...Rise. Ma che si è... ...mai stuputo. Non credo che ancora ti ha questo. Non potrebbe fare qualcosa così precioso. Sì, sì, senti tutto. Per oggi, faremo il trascetto. I think I know what eight-year-old you meant by the manuscript of Captain Bluebeard our old sketchbook this is where we kept all our pirate drawings yep now let's see this map the title of Captain Barbaloo, Longman, Silver, Gilemani, Mamma Vendetta, Mensa, Cabina del Capitano, Assessorio di Toro, Cannone, Cambosa Poco di Pirate Regolamento Pirata È provito a lavarsi, è provito a portare ragazzi sulla nave, è provito a condividere i segreti dei pirati È obbligatorio a condividere il bottino, è obbligatorio a sterare il tesoro, è obbligatorio a proteggere i compagni i pirati Chi non obbedisce alla regola andrà in pasta e coccodrilli Un altro giorno di razza e distruzioni in alto mare, il nostro tesoro appena sepolto è di nuovo sotto attacco La malvagia, comandante Shelly, Nemesis, tutti i pirati ha minacciato di rubare la nostra mappa Se la trova, è direttamente scoperto quanto è prezioso il nostro tesoro e ora vuole rubarcelo Stiamo facendo del nostro meglio per tenere la scosta della mappa mentre continuiamo a lavorarci Siccome i nostri amici vogliono il nostro tesoro e tutti i costi, dobbiamo assicurarci che solo una capacità per blu e long max silver Possiamo leggere la mappa e ora via verso il prossimo bottino Questa è sembra che una pagina è stata scoperta Mi chiedo se è la mappa E guardate questo, questa pagina è stata scoperta Pensi che è la mappa? Se è la mappa, non c'è come potrebbe essere scoperto Magari si è scoperto con il resto dei pezzi Ma qui è tutta quale No, basta Chloe e noi stavamo a fare molti drawing in Miss Shelley's class I wonder se la mappa è scoperta con la scoperta della scoperta del anno People say a lot of things about the Prescott family But this is pretty cool I remember writing this It's a story where you choose what happens I wonder if I could still get to the end Passi pane di Max e Chloe amiche del cuore le sudutesse migliore tutta la scuola Sei in classe quando all'improvvisa vedi uno scoiattolo molto carino la finestra È pucciosissimo L'ho carezzi, ha carezzi lo scogliato e lo pagina 8 Non ha carezzi lo scogliato e lo pagina 3 Ma non c'erano anche i nostri tempi questi giochi Vabbè Magari sfogliando la troviamo Oh, yes, take that, Rat King Don't move This angle is perfect Why be shy? Get in here, dude Subject and photographer You really do it all, Max I try I think this was the first class Chloe and I had together Not sure I learned much about the Stars and Stripes Chloe's mom wanted us to go through this pile of old clothes and find stuff to donate Instead, we played dress up for an hour Bingo Nascondi lo segreto di Chloe, caverna oscura, isola del tesoro, castello Price I'm remembering this now Didn't we make some crazy puzzles? You need the telescope and the amulet, which we hid inside a dark cavern, aka the attic Why did we do that to ourselves? Because we were eight years old and the attic was the scariest place we could think of You think it's still there? Should be As long as the clean police haven't gotten to it first Okay, and once we have the amulet and the telescope We use them to reveal the treasure Somehow Here's what's happening I'll head to the garage to dig up my old telescope You go find that amulet We'll meet out back at the pirate ship You mean the swings? Yes, the pirate ship Captain Bluebeard and Long Mac Silver right again, bitches! I'll find a way to talk Chloe later If this has to be my last day here Might as well have one final pirate adventure Okay, Chloe said she hid the amulet in the attic The only way in is through the broom closet Seems like Chloe's dad always has a project around the house Makeup is great for acting in Halloween costumes Any other time? I just don't... Chloe's mom bought me a toothbrush Because I spend the night here so often Well, I used to The things inside this cabinet haven't changed very much over the years I guess Chloe never really grew out of wanting to be a pirate I can't believe I won't be able to call Arcadia Bay home much longer I slipped and broke this post a few years ago But Chloe insisted on taking all the blame Even after she got grounded she never squealed What a friend I don't think I've ever actually seen anyone reading these books I wonder if I'll ever take this view in again I always like to imagine I could open that wardrobe and step into another world I don't think I could ever handle a real life murder investigation The two whales make the best Belgian waffles No other diner could even come close It's so sweet that Chloe's mom takes this photo with her to work Awww Chloe's parents are so cute Vacances San Francisco with William and Chloe Awww Chloe's mom is trying to quit smoking The principal at Blackwell wants to meet with Chloe's parents Did Chloe get into a fight? She never gets in trouble I'm glad her dad stood up for her A voicemail? Sometimes I really wish I had siblings Whatever happened Whatever happened It can't have been good Chloe hasn't mentioned a trip Maybe Chloe is such a nature nerd I bet she's gonna love it It's awesome that Chloe's mom wants to teach kids She'd be really good at it Most strikes? How can that be so cool and so dorky at the same time? Niente, qui non c'è nient'altro Devo andare nello schabettino Camera di color Guarda Chloe's room has always been home base It's hard to think this might be the last game we ever planned here I've gotta find that amulet before I meet Chloe out back The entrance to the dark cavern is in there Bluebeard's chosen hiding place for the mysterious amulet There's a camera degli ospiti Moment after what? There it is The dark cavern Crap I can't get into the attic if I can't even reach the door I need to find something to stand on I'm sure I can find something around here to boost me up Maybe this will make me tall enough to reach Ah, in this case we have a new scale Hello It's a start I gotta find something I can stack on top of it Oh, ma' It's all clear The door with your mother Here Uh Ah We are Things are Hua ma potrei riuscire ma potrei riuscire le cose sulle quasi là ho bisogno di più qualche centimetro andiamo a rivedere nella camera di libri mi credo non 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 che voglio trovarlo qua in mezzo ma non è grande quindi No sharpie boob jobs. Disappointing. No sharpie boob jobs. 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 è difficile immaginare a Chloe's dad in college I wonder what he was like Maybe there's still some things in there I guess Chloe's dad went through a hippie phase Hard to imagine Chloe's dad in college I wonder what he was like Chloe and I had the best Halloween costumes Long Max Silver's eye patch This'll be perfect That's so cool I wonder how many different moments this thing has captured This desk's pretty heavy Glad this thing is empty Yes Dimmi te se non hai fatto questa strada per per prendere un ciondolo Questa è sembra interessante, penso vorrei che potrebbe ricordare come funziona Come suonare? Non è bene Questa è? Noguena può fermare un po' di riscaldamento Chloé Price e il mio amico è così strano essere in questo attico dopo molto tempo mi ricordo essere assicurata di questo posto credo che quando sei un figlio ti sono solo scoperto di cose che possono perdere ma quando sei più giovani ti sono più scoperto di perdere le persone che ti preoccupi e... spielli ha ha! ti ho ora, sceliwag ma... io mi amico I miss her. Sei solo guardando me up there, Creeper? Sei una di una, Creepers. Cosa? Sono fortunata che sei il mio migliore amico. E' tutto. E' vero che sei, tu mushy weirdo. Hai trovato l'amulet? Ecco. Ora, portatevi qui. Abbiamo un dolore per trovare. Sto in via. Mi porterà giù un automatico dove troverai la fattoria, la soffitta, i balconi e tutto il resto. Cosa? 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 D' no, not really. I had to fish an empty bottle from the recycling bin. That's probably for the best. Some pirate you are. Cosa? Cosa? Arrrrrr. Walk the plank Perfect Chloe's bottle rocket Il modo più veloce per ottenere un bottone di soda in vostro pezzi. Glider swings. Il modo più veloce per simulare una storme sulle sceglie. Il modo più veloce. E non dovrei lasciarlo. Aspetta un minuto. Ok, uh... Credo che... Ah, dammit! Loro la bandiera. Credo che ho visto un'altra. Grazie, Max. Solo un'altra bandiera. Un'altra bandiera. Scelto da fare. Scelto da fare. Un'altra bandiera. Electricità。 Un'altra parte più vicino a�지.. ..li Meinedati! Grazie a tutti I miss you, buddy Poor Bongo Chloe took his death so hard He'll fuck with the Scotch He'll fuck with the Scotch He'd be spending the day as pirates I would have thought you were crazy Yeah, probably look like a loser, huh? Chloe You could never be a loser Even if you tried Oh, yeah The best friend code requires you say that It's just This whole day has made me feel like a little kid again I can't believe we were eight and nine when we planned this I can This tiny kid's hat is squeezing the shit out of my head Well, treasures don't find themselves Lead the way Avast, matey Have you brought me prize? Ahoy, Bluebeard I have brought the stickiest tape in all the seven seas Well done, fellow scallywag It's just like old times Come, Max Remember how we used to talk about ruling the bays of Arcadia one day? We thought we were gonna be pirates forever If being a pirate means acting silly and going on crazy adventures together Then it will always be pirates Hell yeah Would you like to do the honors? Long, Max, Silver Me? Are you sure? Of course Come on, Navigator Point me to some treasure Wait, how am I supposed to use this? The drawing on the lens It should line up with something? Here goes nothing Okay, this drawing is supposed to line up with something I think the drawing should turn the real world into something Piratey I can't line it up with anything Maybe I'm not holding it right I think the way Oh my God I think the way Maybe I'm not holding it right I think the way The angle almost looks right The angle almost looks right Siamo così vicina. I just need to keep looking. I think I have the right angle, but where does it line up? Right. Okay, take a step right. No, no, the other right. My other right or your other right? No mia No mia Mi altra right Gotto Wait What? Just go That way Perfect Now come towards me Bingo What the? That Is Not what we buried Che minchiae Che che avete sepulto Qualcuno ha sepulto qualcosa What is this? I don't know Let's open it Open it From Bloody Bill Who's that? I'll get the tape layer I don't know I don't know I don't know I don't know Chloe's dad is such a good call I don't know 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 I've given it extra protection from the winds and rain. I'm sure you're excited to open your time capsule, so I won't go on too long. Just know that Bloody Bill is bloody proud of you. Both of you. Keep those sails trimmed and that anchor scrubbed. And always remember, the real treasure is... Friendship, love. Your Oregon State prepaid college savings plan. Horror. That's what we originally buried. Huh, yeah. I guess it probably would have gotten ruined underground. Holy crap! It's Billy the Squid! He's alive! Oh, man! It really is like a time capsule. No way! Chloe, look at this. We wrote each other letters. Oh, I remember these. To Chloe Price. Thanks, Max. I hope you were having a lot of fun being a teenager with your best friend. Oh, you were so cute. Check it out. Maxine. Leggi. Cara Chloe, come stai? Io molto bene. Oggi è il 27-2003. Siamo nel piano delle vacanze estive. Stiamo costruendo una capsule del tempo per noi due e del futuro. Lo stiamo facendo a tema pirata. Ti sei divertita a trovarla? Allora, queste sono alcune delle cose che ci piacciono. Uno, animale preferito, cavallo arabo, Max, l'ontra, Chloe. Due, cibo preferito, panino con una ragosta, Max, gelato al caffè, Chloe. Tre, materia preferita, educazione, artistica, lettura, Max, scienze, Chloe. Quattro, migliore amica, l'una, l'altra, entrambe. E tu? Hai più di 12 anni. Qual è il tuo cibo preferito, il tuo film preferito, eccetera? Per ora è tutto. Spero che sia stato divertente. Non so di essere un adolescente insieme alla tua migliore amica. Ciao, Maxine Colfi. Cara Maxine, ciao dal 2003. Questo è un risunto di come passiamo le giornate. Indovina cosa c'è di vero? Uno, andiamo a scuola insieme e ci stiamo sempre insieme a pranzo. Ma dai. Due, ci fermiamo a dormire a casa di una delle due almeno una volta alla settimana. Tre, ci piacciono un sacco i pretzel salatissimi. I quattro stiamo facendo a gara per vedere chi per prima vi fa convincere i suoi genitori a prenderli un cucciolo. I cinque quando ce lo potremmo permettere di mai vivere insieme, siamo solo a vernice dorata. Se abbiamo combattuto contro un sacco di amici, siamo sempre riusciuti a salvarci a vicenda. Allora si è detto che sono tutte vere e ha indovinato la tua migliore amica, Chloe. Allora si è detto che sono un sacco di amici. C'è tanto da guardare. La mia mamma dovrebbe pensare a questo messo? Non so. Pensavo che sarebbero a casa per ora. Max, ricorda di scraccia art? Oh, mi piace questo. E' un'altra cosa. Questa è la prima fotografia. Mi piace come le camere polaroid facendo ogni foto sembra un po' nostalgica. La mia mamma dovrebbe essere l'unica cosa che chloe mi piaceva. Abbiamo sempre fatto molto più di una messa da qui a mia casa. Questo è probabilmente l'ultima cosa chloe' mamma vuole vedere dopo la shift. Molto meglio. C'è qualcuno ha un po' di due shoes. E' stata una buona settimana. La sera un po' di due Sprache. Io ho usato ogni posizia possibile per essere qui per夕ci alcorso. Io sempre sento inizio molto meno vicino a chloe. Questo container sembra un po' di più ciò che può essere sembrato. It's good to see you, old friend. It actually might be really fun writing once a week too often. Well, I run out of things to say. Holy crap, it's the end of that comic in Chloe's room. Oh, this is gross. Most of these are pretty far off base. Recording things was so much fun in third grade. These are awesome. Ah, keep messing up my picture. There are no mistakes in art. You sure were troublesome to find. That's so cool that Chloe's mom is thinking about this. Ecco la palla di neve, la tengono qua. Ma chissà come mai invece l'ho spostata di là? There. Now you've got something pretty to look at. Hey, little guy. Aren't you cold in there? Chloe's grandparents live in Idaho now. I guess, compared to that, these used to make great pirate swords. Goodbye, vase. Soon you won't have to worry about me knocking you over anymore. I wonder if that's the voicemail that Chloe's mom was talking about. She did say she didn't want Chloe to hear it. But if Chloe's in trouble at Blackwell, this might be my only chance to get her to talk about it. Looks like Chloe's a lot more responsible than I am with my allowance. I bet there's some really cute photos in there. I wonder if I could recreate this photo with Chloe now. I wonder if I could recreate this photo with Chloe now. Hey, what if my being in Seattle finally convinces Chloe to try an MMO? Chloe and I have been friends for... Chloe and I have been friends for... Chloe and I have been friends for... Halloween 2001, Halloween 2002... Yes? Pose for a photo with that? Okay, tip your head back and put your arms out. And a really big smile. Like this? It's perfect. Stop moving. Really cute, Chloe. You're not so bad yourself. Chloe and I spilled that wine months ago. Chloe and I spilled that wine months ago. But... I still feel bad about it. I hope Chloe's parents never get rid of that swing set. Chloe looks so content when she's drawing. Is that what I look like when I'm taking pictures? This used to be the rainy day pirate ship. You're such a space hog. Move over. No. 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 I wish this moment could last forever I wish this moment could last forever Take a break for a second This artist waits for no one to stop That was worth stopping for Hey Hippie How's the masterpiece? Working on the last bit? How about you? Done with the time capsule? Yeah, I think so Well, perfect, because now I'm finished Check it out Oh, gosh I really miss I saw you giving him a flower It was so sweet Oh, Chloe You were really drawing me that whole time Whoa, whoa, whoa Mushiness alert Keep it together, Max I guess now's my chance to tell Chloe I'm leaving We might not be alone again once our parents get back Hey, ready for something else? I've got a great plan for the afternoon Crap I don't want to ruin the rest of the day You're staying for dinner, right? Would Chloe even want me to tell her? She didn't seem to want to talk about anything serious upstairs Max? It's just Seattle I'm probably overstressing about the whole thing Right? Chloe? Max? I want to tell you something Okay I'm, um My family's moving to Seattle Really Soon Hey In three days, right? What? You knew that? Our parents do talk, you know? But They said I should be the one to tell you They still told my parents I guess mom and dad were trying to keep quiet too But They're bad at hiding anything Don't look so worried, Max It's okay Come on, dorkmeister It's not the end of the world Why did you pretend like you didn't know? I don't know I I guess I guess I didn't want it to be true We were both doing it Weren't we? All that pirate stuff Doing the treasure hunt Wasn't that fun? Of course But Plus, I know you hate this kind of conversation, so I just Left it alone You know? Come on I want to spend every minute we have together Having fun I'm so worried that I won't be okay without you Hey, stop that Of course you'll be okay We're Max and Chloe, remember? We're always together Even when we're not That's true Cool Let's find something fun to do Let's find something fun What? What? Black flies on the windowsill That we are, that we are, that we are to know Winter's stole, summer's thrill And the river's cracked and cold See the sky is no man's land A dark and plume to stay Hope your needs a humble hand Not a fox found in your place Flそ what means Let's find out Leg sacrificing Let's gotten hit Let's get it 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 Let's take it Let's go Go Let's get it This is Grazie a tutti. 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 Goodbye. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Qui non c'è niente di collezionabile. Pensavo mi dasse anche un trofeo o qualcosa. Niente ragazzi abbiamo preso tutto. Lo troviamo. Lo troviamo. E concludiamo questa avventura di Chloe Max. E' un po' di controllo. E' un po' di controllo. Mentre è un po' di controllo. Ma ci vediamo fra poco. E' un po' di controllo. E' un po' di controllo. Grazie a tutti